Ciao a tutte le ragazze e bentornate sul mio canale Oggi sono in compagnia di Greta Per realizzare la... Ok, avete capito È lo stesso identico video di giovedì scorso Soltanto che Greta sarà bendata E truccherà me Avevamo chiesto di raggiungere i 20 mi piace E siamo arrivati a 32 Quindi mi avete messo in questa dura prova Perché non è che mi fido molto della ragazza qui Però vedremo Vedremo cosa combina Abbiamo le stesse identiche cose di l'altra volta Abbiamo aggiunto soltanto due cose Questo mascara blu Oddio Mi vergogno E questo pennellino qua Per fare un po' di sfumature Questo quello è utile Vedremo, chi lo sa Ora mi metto un mollettino qui Perché per paura che questi capelli non mi vanno a finire E si inizia Un mollettino messo Ben da messa Si inizia Allora Come primo oggetto do questa Ti speriamo che non mi combina danni Ok Ti affido la mia faccia Non mi fa la nusa Eh vabbè Che ne so Può essere pure che Dove posso iniziare? Eh Greta Questo lo sei tu Perfetti Guarda il metodo Che c'è? Scusa Vabbè che ne so Non vedo È un po' difficile Scusa 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 Dai vai Altro ottimo Non spero Non è quello Oh Scusa 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 Io non vedo Io non lo so ragazzi miei Controllo l'orario ok ora ti do questo che ne so che è io il mascara palle chiamate in arrivo giustamente ma andiamo a registri video doc tutto in modo veloce che schifo dai sbrigaci adesso arriva la nonna dove sta la bocca ok c'è ma hai un po' di vergogna dai non vedi la finestra ok poi questo questa è una ciglia oh aspetta non mi vuole andare negli occhi eh chiudili ok può bastare perfetto io mi erogno ok ora ti do questa ma non usa pure questa la metto sulla bocca ma già ci ho messo il rossetto vabbè dai sono di parire ok ora mettiamo cioè insomma io posso andando in miei secondi ah va ho messo pure il dito vabbè nell'ombretto ok adesso mi stai dando l'ombretto ma è nata è stupida Andrea beh non posso guardare dai ma me lo metto in mano di là tieni metto sui mani è la talca Andrea ok ora ultimo tocco è molto difficile ora si fa come un buon rimetto mi fa come il collo dove sta? scusa dove sta la roggia? bene ragazze mie questo è il risultato anzi manca un pezzo va ma te lo faccio mettere tieni cos'è? boh il rossetto oddio Andrea mi faccio sporcare dove sta la signa? e che c'è? dai 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 non me ne vedo mi devo messo un soso di nel non mi è andato quello allora adesso io vi dico solo che adesso Alex toglierà il coso mi riesco a staccare l'occhio e io mi girerò non vi farò vedere perché c'è allora allontanati ok uh c'è qualcosa? dai sbrigati però oddio non me ne vedo niente mettiti a sedere mi prese i capelli mettiti a sedere dai mettiti a sedere eccomi messa? si posso girare? si ma che sei un mostro ho già messo in mascara allora possiamo notare che si abbiamo la modita nera direi che per le labbra è un po' mostruosa e che adesso mi voglio che era nera l'ossetto qui doc rimel blu sulla blush rossa matita rossa sugli occhi che se nulla mi ha ammazzato ancora qui rimelo nero questa volta qui ombretto 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 minimo è minimo minimo e niente direi che questo video ombrebrioso perché non si può chiamare un trucco decente finisce qua se il video vi è piaciuto quindi pollice in su raggiungiamo i 30 30 eh 30 like e niente noi vi mandiamo un bacione dai miei baffetti e al prossimo ciao 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 ciao